Grazie a tutti. Sicuramente i casi molto complessi con i pochi mezzi che abbiamo non si possono affrontare e soprattutto non a tutti i cittadini viene offerto questo servizio ma viene offerto quei cittadini che socialmente sono in condizione di vulnerabilità sociale o sanitaria. Questo è un discorso importante e comunque sono delle protesi difendibili, sono dei lavori che garantiscono la difendibilità e questo è importante saperlo ed è importante dirlo perché soprattutto alcune regioni tipo l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, anche la Lombardia hanno investito molto in questo. Si rileva anche dalle parole che ha detto adesso l'Avvocato quanto sia importante avere un consulente competente e serio perché questo può modificare tanto ma può modificare i rapporti tra odontoiatra e paziente sin dall'inizio cioè senza magari arrivare neanche alla causa. Per questo ho sottolineato che fortunatamente non tutti gli odontoiatri sono come quello che purtroppo ha incontrato lei. È chiaro che la domanda che poi ci viene fatta è come faccio a scegliere. Io un consiglio posso dare di fidate di chi promette i miracoli, di fidate di chi dà delle informazioni che sono poco credibili o che pubblicizza dei miracoli. I miracoli non li fa nessuno. Io li vedo cartelloni per strada, oramai purtroppo la nostra attività è stata mercificata un po' troppo. Dove si promettono sorrisi, si ignora che comunque il paziente ha una biologia, che comunque ci sono degli aspetti della persona, della salute che vanno considerati e che quindi non sono oggetti che si comprano e che sono perfetti. Bisogna chiarire che i miracoli appunto non li fa nessuno. E queste sono delle premesse estremamente importanti perché ci sono tanti odontoiatri che ripeto lavorano veramente bene e con coscienza. Relativamente al problema del consenso, il consenso è un problema molto importante che non nasce dal cosiddetto modulo che vi è fatto firmare, nasce dai rapporti interpersonali che il paziente intrattiene col medico, che il medico intrattiene col paziente. E sono importanti perché si crea una relazione di cura che poi si possa formalizzare in un atto scritto, in un consenso, in due righe. Ma l'importante è che si venga a realizzare quella che è la reale alleanza, cioè quella che è la condivisione delle scelte. Ma per condividere una scelta bisogna comunque conoscere le prospettive che ci sono. Quindi un buon odontoiatra, e ripeto ce ne sono tantissimi, condividono una serie di informazioni col paziente rendendole fruibili al paziente stesso. Cioè spiegandosi in termini molto poveri, molto semplici, senza utilizzare terminologie complesse. Perché questo è veramente importante, bisogna portare l'informazione e credo che anche la dottoressa Filippucci possa essere d'accordo, alla portata della comprensione del paziente. Oltretutto, come giustamente diceva il dottor Biscaro prima, bisogna capire che le cose fatte bene purtroppo costano. I dentisti italiani sono, penso che rappresentino nel contesto internazionale, dei professionisti che mediamente lavorano molto bene. La media è molto alta e utilizzano delle tecnologie veramente all'avanguardia, cosa che negli altri paesi non avviene. Però queste tecnologie, questi impegni che ciascuno di noi poi si assume anche in termini di formazione, di aggiornamento, di acquisto di nuove tecnologie. Per rispondere anche alle domande della dottoressa Filippucci, i problemi delle garanzie di cui dopo magari parlerà anche. Sì, adesso arrivo perché volevo fare queste premesse estremamente importanti per me. Per cui, una delle domande che credo sia perché costa tanto, perché noi dentisti italiani investiamo molto in tecnologia e anche in formazione e aggiornamento. E purtroppo questo è in qualità e questo purtroppo si paga. La qualità, e dice come, che garanzie ho? È chiaro che non tutti in questo momento hanno la possibilità di spendere cifre estremamente elevate per la cura della propria bocca. Questo non vuol dire però rinunciare a curare la propria bocca o avere delle scelte che non siano funzionali. Perché il problema salute è legato anche alla funzionalità. L'importante è che la scelta condivisa col paziente, qui ritorno sul discorso della relazione di cura e del rapporto di tutela di questa relazione, nasca da una scelta condivisa anche di materiali, di scelte che a volte possono essere anche di compromesso, però devono essere note dall'inizio al paziente. Perché a quel punto il paziente ha scelto consapevolmente di utilizzare qualcosa di più economico, però allo stesso tempo funzionale e, per quanto ci riguarda, difendibile. Cioè la qualità di quello che io offro al paziente deve essere comunque tale da garantirgli la salute. Non bisogna scendere al di sotto di certi livelli minimi di qualità. E questo vuol dire che non è possibile scendere al di sotto di determinati costi. Le cose che costano poco, troppo poco, purtroppo, per quello che è la mia esperienza, valgono troppo poco. E questo credo che il dottor Viscaro ci possa dare ragione. Tra l'altro il problema economico non è un problema da poco, perché si litiga spesso su questioni, su branche che hanno delle, che credo sia l'altro quesito, le branche sulle quali ci sono grosse aspettative da un punto di vista economico e da un punto di vista estetico. E quindi sono la protesi, l'implantologia e l'ortodonzia. L'ortodonzia in questi ultimi anni è un'altra delle grosse problematiche che noi dobbiamo affrontare. Però, ripeto, ci sono dei professionisti seri e ci sono dei pazienti, purtroppo, anche poco seri. Questo fa parte anche di tutto ciò che ha provocato poi quella odontoiatria difensiva, di cui parlava prima il dottor Viscaro. Garanzie. Io credo che la garanzia più grande che un odontoiatra possa dare stia nella sua professionalità. Professionalità che vuol dire assumersi le responsabilità di una professione che oggi diventa sempre più difficile. E responsabilità, guardate bene, non è un termine ad accezione negativa, è un termine estremamente positivo. Vuol dire garantire il proprio operato proiettandolo nelle conseguenze. E qui vengo un po' alla risposta della domanda che è stata posta. Cosa vuol dire? Garantire l'onere di assumersi la responsabilità di ciò che viene dopo. Vuol dire fare anche, avere la capacità di rimettersi in gioco e capire perché se è successo un problema, se c'è stata una rottura di un manufatto protesico, di un dispositivo, da che cosa è stata determinata questa rottura. Io voglio ricordare che nel momento in cui viene installato un manufatto protesico in cavità orale, che non è un oggetto che si imprede e si mette in cavità orale, intanto fa parte di un complesso piano di trattamento in cui, come ha detto la stessa signora Antonella, ci sono delle terapie, c'è tutta una fase che prelude alla realizzazione della protesi. Di fatto cosa succede? Succede che il medico fa una visita, fa una diagnosi, un piano di trattamento dal quale fa due cose. Il preventivo, che deve condividere, sono d'accordo che deve essere molto dettagliato e condiviso col paziente, e una prescrizione, c'è una progettazione che passa al suo odotto tecnico. Il tecnico sulla base di questa prescrizione, non entro nel merito del fatto che l'odotto tecnico non sia un meresecutore, ma possa dire anche la sua. Comunque, sulla base di questa prescrizione, di questa progettazione, realizza il manufatto. Manufatto che viene verificato in cavità orale, il paziente viene provato, scusate dall'odontoiatra, viene provato, fino alla finalizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qualcosa alla fine del lavoro non torna, se la ceramica si rompe, ad esempio, l'odontoiatra deve porsi il problema di capire perché si è rotta, se c'è un errore di progettazione, se c'è un errore di realizzazione, è chiaro che risponde di tutto ciò che è avvenuto perché lui ha verificato quel manufatto prima di finalizzarlo in bocca. Quindi questo è estremamente importante. E secondo me, visto i costi di giudizio, non conviene neanche l'odontoiatra andare in giudizio. Quindi valutare queste cose fa parte intanto della correttezza professionale, intanto del corretto rapporto col paziente e poi anche di una autovalutazione di quello che si è fatto. Ci sono poi anche dei problemi legati a dei difetti che possono non essere evidenziati, cioè tipo materiali diversi dalla dichiarazione di conformità, eccetera. La dichiarazione di conformità è una dichiarazione che rilascia l'odonto tecnico all'odontoiatra e l'odontoiatra poi la consegna al paziente dove vengono indicati esattamente i materiali utilizzati. Qualora questi non dovessero risultare conformi, evidentemente l'odontoiatra risponde nei confronti del paziente e sarà poi l'odontoiatra rivalersi eventualmente sul professionista. Qual è la responsabilità? Che termini abbiamo? Entro quanto tempo ci possiamo lamentare in veste di paziente di un danno? Ebbè, da quando abbiamo, secondo me, la percezione di questo danno, io credo che fare riferimento alle normative relative alla responsabilità del professionista sono estremamente importanti perché secondo me tutelano molto di più il paziente, perché da quel punto, da quel momento, il paziente ha 5-10 anni di tempo per ricorrere alle vie legali, che secondo me non convengono mai, conviene sempre comunque trovare degli accordi, dei punti di accordo. Il problema è un altro, se il paziente non informa immediatamente, è un discorso che facevamo con l'avvocato Iadeco alla prima macchina, se il paziente non informa repentinamente l'odontoiatra del problema, della rottura, a quel punto bisogna stare attenti, secondo me il paziente bisogna che lo faccia nel più breve tempo possibile, non c'è una normativa a riguardo, ma è importante che lo faccia perché altrimenti potrebbe avere delle corresponsabilità, nel senso che il quadro potrebbe peggiorare in relazione al fatto che non sia stato comunicato repentinamente, questo in sede di giudizio purtroppo viene spesso tenuto in considerazione.